Emergenze metaboliche seconda parte vedremo l'emergenza ipo e ipertiroidea. Cominciamo con la ipotiroidea che è definita come una diminuzione della funzione tiroidea evidenziata da un aumento del TSH e una diminuzione del T3 e del T4. La mortalità è alta fino al 20% e colpisce più le donne sopra i 60 anni. Quali possono essere le cause di ipotiroidismo? Può essere primitivo o secondario. Il primitivo può essere per esempio a tiriopatie autoimmuni oppure a una tiroidectomia oppure può essere una post-graves trattato con iodio. Il secondario invece si ha per o ipopituitarismo, quindi problematiche nella secrezione TSH, amiodarone litio, sunitinib e buematinib. Condizioni precipitanti sono quelle che mandano in sovraccarico la tiroide, quindi il freddo, le infezioni sistemiche e l'iperidratazione, nonché altri farmaci interferenti che sono anestetici, antidepressivi e neurolettici, quindi infezioni, il freddo, farmaci e iperidratazione. La diagnosi è come abbiamo già detto con aumento TSH, riduzione T3 e T4. Non abbiamo questi risultati dal laboratorio prima di 24 ore, quindi quello che possiamo fare è solo una diagnosi clinica di sospetto che va dall'ipofunzione tiroidea fino al coma. In termini di clinica, la letargia, avremo ipotermia, dispnea, edema, ipotensione, bradicardia, toni parafonici, stipsi, iporeflessia, capelli fini fragili, convulsioni, è tutta la clinica del paziente ipotiroideo classica. Quali sono gli esami rapidi di laboratorio? Allora l'emogasanalisi come sempre, il laboratorio che ci mostrerà un'iponatremia e un'ipoglicemia che sono le cose più importanti, l'ECG, l'ecocardiografia, quindi con cardiomegalia, la TAC encefalo per vedere se c'è una denoma. Comunque controlliamo la sella turcica, quindi EGA laboratorio, ECG, TAC, ecocardio. Il trattamento, cosa ci mostra? È un trattamento sostitutivo con L-tiroxina o liotironina, va iniziato a pieno solo dopo aver saputo i risultati, quindi prima dobbiamo fare supporto al paziente come? Con idrocortisone, che è un effetto sodio ritentivo perché abbiamo detto che i pazienti sono iponatemici e ipoglicemici, quindi gli diamo oltre all'idrocortisone anche la glucosata e queste sono le cose più importanti. Poi siccome è ipotermico lo copriamo, se è il caso possiamo fare ventilazione meccanica assistita e se ha edema polmonare gli facciamo anche la furosemide. Restrizione di acqua o soluzione salina, quindi questo è un paziente che ha un maggiore circolo, quindi il più importante è eventualmente dare l'idrocortisone per l'anatremia e la soluzione glucosata per l'ipoglicemia, non che coprirlo. Dopo se ha edema polmonare gli facciamo la furosemide, la restrizione e la ventilazione assistita. Quindi le più frequente cause di decesso quali sono? Proprio l'edema polmonare, lo shock cardiogeno e le aritmie, quindi l'ipovolemia fondamentalmente e l'edema polmonare. Motivo per cui, ripetiamo ancora, idrocortisone, il glucosata, coperte, furosemide, ventilazione meccanica assistita e restrizione dei liquidi. L'ipertiroidismo e la crisi tiriotossica, qui si parla di tiroid storm, cioè c'è un aumento di T3 e del T4 con diminuzione drastica del TSH, quindi abbiamo una tiriotossicosi che è uno stadio clinico conseguente all'eccesso di ormoni tiroidei in circolo. La prognosi è sfavorevole se il trattamento non è immediato, tant'è che nel 25% dei casi si arriva alla morte. Eziologia e fattori scatenanti, quali sono? Allora abbiamo la malattia di Graves, l'adenoma tossico e il gozzo tossico multinodulare, quindi Graves, adenomi, gozzi tossici. Le cause meno comuni sono invece la tiroidite sporadica asintomatica, farmaci come l'ilio e soprattutto l'amiodarone. Cause rare di ipertiroidismo, quali sono? Adenomi ipofisari, TSH secernenti, questa in realtà è molto importante, la mola gravidica e lo strumo ovarico, perché la beta-HCG stimola la tiroide, quindi la mola gravidica ne produce a tonnellate, quindi da ipertiroidismo e tiriotossicosi. In presenza di aumentata disponibilità di ormoni adrenergici e ridotto binding di ormoni tiroidei alla TBC, quindi le catecolamine, inducono, fungono da fattore scatenante e quindi innescano loro la tiroid storm. Quindi ci sono più ormoni adrenergici, meno ormone tiroideo legato e quindi loro chiaramente stimola ancora di più il rilascio e causano il precipitamento della sintomatologia. I fattori scatenanti quali sono? Sospensione della terapia antitiroidea, anche qui interventi chirurgici, infezioni, gravidanza, stress, esercizio fisico intenso, inibitori della tirosintinasi, tutte cose che portano ad un aumento della secrezione tiroidea. Per la diagnosi di certezza bisognerebbe disporre i risultati di laboratorio, però anche qui abbiamo detto che arrivano dopo 24 ore, quindi dobbiamo essere in grado di sospettare le manifestazioni da ipertiroidismo nel paziente. Nausea, vomito, febbre, quindi tachicardia, diarrea, quindi abbiamo il paziente che è agitato e delirante, tachicardico, febbre a 38 ed è sempre presente, vomito, nausea, diarrea, scompenso cardiaco ad alta gittata. Quindi se tutte queste cose, poi scompenso cardiaco, peraltro in paziente naive, che ha anche modificazioni ECG, anche qui naive, cioè non aveva mai avuto niente prima. Allora se tutto quello che abbiamo detto qui coesiste, quindi tachicardia, febbre, nausea, vomito, diarrea, convulsioni, scompenso ed ECG in pazienti naive, allora dobbiamo pensare a una tiroidite, assolutamente. Il trattamento anche qui è di supporto prima che noi abbiamo la diagnosi di certezza, quindi se il paziente ha questi sintomi facciamo beta bloccanti, idrocortisone, come avevamo visto nell'ipotiroidismo e la somministrazione di fluidi, quindi mediante somministrazione di fluidi e somministrazione di ossigeno. Quindi ossigeno, qui somministriamo fluidi, idrocortisone e beta bloccanti. La diagnosi di certezza ci impone una terapia invece a base di metimazzolo, propilti o uracile, iodio o carbonato di litio. L'outcome, le cause di morte sono principalmente la shock, shock, cid e mof. Quindi metilmazol, propilti o uracile e sodio carbonato di litio, outcome, morte, cid, per cid, mof e shock.